Cari amici, come da lungo tempo previsto, sono in arrivo due eventi importanti, decisive per quest'estate, come è nota di quest'estate. I temporali, temporali diffusi anche forti su gran parte, soprattutto al centro, ma soprattutto un forte crollo termico anche di 10-15 gradi su quasi tutta l'Italia. Iniziamo, allora, domenica crollo termico al nord, si passerà dai 35-37 gradi ai 20-24 gradi, attenzione, quindi si avvertirà non fresco ma freddo, non andate in giro con la T-Shirti per fare gli eleganti, mi raccomando. Poi lunedì crollo delle temperature di una decina di gradi sulla regione centrale e martedì crollo delle temperature anche sulla regione meridionale. La Sardegna farà parte della regione centrale, per cui qui il crollo sarà simile a quello delle regioni centrali. Poi questa aria fresca resterà fino alla fine del mese, fino all'1 o al 2, poi dal 2 in poi risaliranno un po' su tutta l'Italia, ma soprattutto al centro sud, di 4-5 gradi, ma senza sconfinare nel caldo. Poi tra il 6 e il 10 di settembre è un nuovo lento calo, appena di 2-3 gradi. Insomma, credo che il caldo intenso, come quello che abbiamo vissuto in luglio, e anche questo di secondo ordine, ma sempre importante, che abbiamo visto, adesso probabilmente non ci sarà più, almeno fino al 10 di settembre.